Gentili telespettatori, un cordiale saluto dalla concessionaria Opel Chevrolet Autoscana di Firenze. Il migliore usato della Toscana è qui da noi, a Firenze in Viale dei Mille. Se volete trovare auto belle e affidabili a prezzi corretti ed essere trattati con il rispetto e le facilitazioni di chi acquista un'auto nuova, Opel Chevrolet Autoscana è il vostro fornitore. Venite a trovarci, siamo aperti anche il sabato con la sola eccezione di agosto. Iniziamo la nostra rassegna che per forza di cose mostrerà solo una piccola parte delle auto disponibili. Opel Zafira 1.9 turbodiesel allestimento Cosmo Active Select con cambio automatico e sequenziale, la vettura è dell'anno 2006, è un full optional in splendide condizioni a 14.800 euro.